Tanya Cushman Reviewer Tanya Cushman Reviewer Sono nata nel 1998 e nel 2008, quindi quando avevo dieci anni, avevo Facebook. Non so se vi ricordate come era Facebook nel 2008. Probabilmente molti di voi allora parlavano di se stessi in terza persona, perché su Facebook si usava così. Però non vi preoccupate, se vi vergognate del vostro passato sui social, date uno sguardo al mio. Qui avevo ben pensato di utilizzare Google Traduttore per comunicare ai miei 14 amici milanesi, che mi ero tolta l'apparecchio. È divertente, ma a volte è anche difficile avere una testimonianza diretta e precisa di quanto fossimo piccoli, inesperti e ingenui. Nel mio caso non ci sono soltanto i miei stati di Facebook a ricordarmi com'ero, perché quando avevo 14 anni ho incominciato a caricare video su YouTube. Quindi, per chi non mi conoscesse, sono una YouTuber, anche se adesso si usa di più dire web creator, un po' come da Bidelli si è passato a collaboratori scolastici, un po' come da Hostess si è passato a dire assistenti di volo. Da YouTuber si è passato a dire web creator, perché YouTube era un po' macchiato dell'onta dell'ignoranza e della superficialità, tipo le bionde. Infatti, per me è difficilissimo, sono bionda YouTuber. Per cui, oltre ai miei punti esclamativi, ho una testimonianza tridimensionale di com'ero quando avevo 14 anni. Immagino che solo al pensiero vi salga un brivido lungo la schiena. Ma non è finita qui, perché in realtà, oltre a essere una YouTuber web creator, oggi sono anche un influencer. Un influencer che ha scritto non uno, ma ben due romanzi. Quindi, nell'ordine, YouTuber, bionda, un influencer che ha scritto due romanzi. Tutti quelli che hanno più di 25 anni possono abbandonare la sala, non mi offendo. Sono circa cinque anni che convivo con tutti questi appellativi. Per chi invece decide di rimanere, ritorniamo agli stati di Facebook. Mi sono sempre divertita molto a vedere come i linguaggi virtuali, nel senso più ampio possibile, si costruissero collettivamente nel corso del tempo. Oggi conosciamo la grammatica dei social, sappiamo utilizzarli, ci sappiamo muovere, sappiamo quale linguaggio è più appropriato. Oggi, se qualcuno di voi parlasse di se stesso in terza persona su Facebook, riceverebbe una chiamata di un amico preoccupato che gli chiede se per caso una pagina Buongiornissimo Caffè non sia impossessata momentaneamente del suo profilo. Visto che sono una delle cause del declino della società occidentale, a un certo punto ho deciso di autoanalizzarmi e ho scoperto che quattro anni prima che io nascessi, nel 1994, usciva un libro di Pierre Lévy intitolato L'intelligenza collettiva per un'antropologia del cyberspazio. Quando l'ho letto, plot twist, so anche leggere, sono rimasta molto colpita perché era un testo che teorizzava il futuro. Con la digitalizzazione dell'informazione, le relazioni umane avrebbero smesso di fondarsi solo su criteri di territorio e di potere. Le persone avrebbero potuto trovarsi attorno a poli culturali di interessi comuni, di sensibilità simili, a prescindere dalle distanze e dalle differenze. Non solo, due persone con delle conoscenze o delle competenze complementari che un tempo non si sarebbero mai incontrate, si sarebbero finalmente potute trovare per creare insieme qualcosa di originale, di collaborativo, di innovativo. E questa è l'intelligenza collettiva nella sua accezione più ottimista. Un'intelligenza che unisce le persone e che le spinge a lavorare insieme per una società migliore, una società dove tutti sono importanti allo stesso modo, tutti sono indispensabili e dove il sapere è equamente distribuito e ridistribuito a tutti coloro che partecipano alla costruzione della collettività. 25 anni più tardi non è andata proprio così. Internet, come ogni cosa non dotata di libero arbitrio, è al servizio di chi lo usa. Quindi Internet non è buono, Internet non è cattivo, Internet è Internet e soltanto chi lo utilizza al potere di declinarlo nei suoi aspetti migliori o peggiori. Tutti abbiamo usato male i social, pure io, l'avete visto. Delle volte, però, Internet ha davvero unito delle conoscenze complementari di fatto stupendoci molto. Non so se conoscete la storia di 4chan e del teorema matematico. 4chan è una piattaforma nata nel 2003 per la pubblicazione di immagini che riuniva community di appassionati di manga giapponesi. È un posto strano, nerd, dove gli utenti sono per lo più anonimi e le conversazioni dopo un po' di tempo scompaiono. È su 4chan che sono nati gli incel, gli uomini esplicitamente misogini e vendicativi, ed è sempre su 4chan che oggi si radunano i gruppi alt-right negli Stati Uniti. È un po' un posto che ricorda Internet prima di Internet, le community forum, i nickname, l'anonimato. Bene. In questo strano sottobosco dell'Internet, nel settembre del 2011 un utente anonimo appassionato di manga poneva la seguente domanda. Se si volessero guardare tutti e 14 gli episodi di una serie tv manga i cui episodi non sono in ordine cronologico, quanti episodi minimo bisognerebbe guardare per essere sicuri di averli visti tutti in tutte le combinazioni possibili? Questa domanda, che all'apparenza è un casino, di fatti è un casino davvero. Perché si va a scontrare con i temi delle supermutazioni, i limiti superiori e inferiori, sono un influencer bionda, avevo 4 a matematica, non ci sbatterò io la testa oggi, ma ce l'hanno sbattuta per tantissimo tempo i matematici di tutto il mondo. Che cosa è successo? Che un utente anonimo di 4chan ha risposto a questa domanda di fatto dimostrando un teorema matematico mai dimostrato prima di allora in un angolino buio sperduto dell'Internet. e naturalmente i matematici di tutto il mondo non sapevano come gestire questa cosa, perché 4chan e i forum delle subculture di Internet non sono il luogo dove si dimostrano i teoriomi matematici, non c'è credibilità scientifica, non c'è autorevolezza, 4chan non è una rivista scientifica. Eppure ai tempi questa notizia mi aveva molto stupito, un po' perché esemplificava la matassa di pensieri che avevo in testa e che stava montando in me a proposito del contesto in cui vivevo, e un po' perché ci metteva davanti a ciò che Internet a volte può fare, può unirci, può stupirci, può completarci. Io mi sono dimenticata di farvi vedere la slide della notizia di 4chan, andiamo avanti. C'è altro da dire, nel senso che Internet è vero che ci ha uniti, ma è anche vero che ha completamente rivoluzionato la distribuzione e la fruizione di contenuti. Io ne sono l'esempio lampante. Il motivo per cui qualcuno di voi oggi storce il naso mentre parlo è che un tempo la definizione di ciò che era culturalmente appropriato veniva dall'alto, in un processo top-down. I sacerdoti della cultura avevano il compito di scegliere che cosa veniva distribuito e di che cosa quindi si fruiva. Con Internet questo modello è completamente cambiato, perché nel momento in cui Internet rende possibile la creazione di contenuti dal basso, quindi rende possibile me, non si tratta più di decidere che cosa distribuire, che cosa no, o di definire cose culture, che cosa no, dall'alto di chi la produce. Se Internet abbatte le barriere all'ingresso della distribuzione, si crea un mercato enorme, pieno di tanti altri mercati più o meno grandi, ed è compito dello spettatore scegliere di che cosa fruire in un contesto enorme disseminato di contenuti di ogni genere. Questo naturalmente crea una frattura enorme, sia economica che umana, tra i sacerdoti della cultura e le persone a cui la cultura è rivolta. Chi sono questi sacerdoti della cultura, questi gatekeeper? Siete voi? Sono i medici prima di Twitter? Sono i bibliotecari prima di Amazon? Sono i, scusatemi, sì, i bibliotecari prima di Amazon, i scienziati prima di Twitter? Le persone la cui preparazione è stata davvero messa in discussione dall'avvento di Internet e dal processo che ha accompagnato e accompagna tutt'oggi la sua nascita e il suo sviluppo, e quindi dalla miriade di informazioni sconnesse che si trovano in giro, molto spesso scorrette. Il problema, però, è che se l'unica cosa che continuiamo a fare è alimentare questa frattura che intercorre tra vecchio e nuovo, tra alto e basso, non ne usciamo più. Io mi sentirò sempre una scema e voi continuerete a sentirvi sempre più messi da parte. Io ho vent'anni e non ho conoscenza diretta di come fosse il mondo prima di Internet, però davvero sono stata additata più volte come uno degli esempi di distruzione antropologica e sociale che Internet ha portato con sé. Questo, cavolo, mi ha portato a pensare a quale potesse essere il mio ruolo come Sofia Viscardia, come poter utilizzare tutti gli appellativi che mi sono stati affibbiati nel corso del tempo. e soprattutto a quale potesse essere il ruolo della mia generazione e di quelle future all'interno di un contesto così sconosciuto e nuovo. Io, quando ho incominciato ad approcciarmi a Internet, a YouTube, ero molto piccola, prima era una spettatrice, poi insieme alle mie amiche abbiamo incominciato a registrarci, a postare dei video su YouTube, e crescendo senza rendermene conto, perché quando si è adolescenti non ci si rende conto più o meno dell'80% delle cose che si fanno, ho capito di aver assorbito involontariamente una sorta di linguaggio virtuale implicito, dei feedback di che cosa funziona, di che cosa no. E mentre io muovevo i miei primi passi su YouTube, il mondo attorno a me, così come lo conoscevamo, stava cambiando, montava un'intolleranza verso le dottrine, verso la conoscenza come strumento di potere, delitarismo, infotainment ed edutainment, perdevano il loro potere in un contesto in cui tutti potevano dire la loro opinione su un argomento, o addirittura ironicamente la loro opinione su un argomento. Come si fa, quindi, in un mondo in cui i canali di divulgazione tradizionali vengono snobbati? È una bella domanda. E la risposta che mi sono data risiede nel tono di voce. Nel contesto storico in cui viviamo, volenti o nolenti, la cultura, le informazioni pure e semplici, non bastano più. Gli esseri umani si sentono soli, si sentono disorientati, sono lontani dalle istituzioni, sono sfiduciati nei confronti di chi un tempo aveva il compito di accompagnare i più deboli verso il progresso sociale e culturale. E la cosa più difficile, come dicevo prima, è che sta a noi reinventare le regole del gioco in questo nuovo contesto sconosciuto. Ed è proprio qui, ed è proprio una di queste regole, secondo me, che dovrebbe essere il tono di voce. Esattamente come preferiamo una persona empatica che ci indirizzi a prendere una determinata scelta piuttosto che un'altra, preferiamo la fruizione di contenuti che siano intessuti all'interno di una cornice accogliente, vicina. Il tono di voce è proprio questo, è la trama sulla quale appoggiamo la costellazione di contenuti culturali che vorremmo fossero distribuiti e capiti. Quindi, se la cultura dall'alto oggi spaventa così tanto, sta a me, sta a noi, intraprendere un cammino diverso di dialogo, di parità. Se i gatekeeper sono visti così tanto con sospetto e se il loro ruolo all'interno dei mezzi di divulgazione tradizionali, il loro ruolo top-down, irrita così tanto, mette a disagio, sta a noi creare un nuovo contesto all'interno del quale chi detiene il sapere possa raccontarlo dolcemente a chi è alla ricerca di informazioni, che poi è quello che il marchio TED sta facendo da anni, ed è proprio il motivo per cui sono così felice di essere qui oggi. Nella divulgazione culturale che immagino, non ci sono giudizi, battutine, non ci si sente superiori. La cultura non dovrebbe essere utilizzata come status, ma piuttosto per costruire silenziosamente una biblioteca di contenuti informativi e accessibili per chiunque voglia consultarli. E la costruzione dovrebbe essere collettiva, perché le community virtuali e fisiche che siano, hanno bisogno, vogliono dire la propria opinione, anche sbagliando. All'interno di un cantiere aperto che mira ad unirci come esseri umani e ad accompagnarci per mano alla scoperta di questo nuovo contesto. Ed è proprio per questo che per me è così importante il tono di voce. Negli anni ho acquisito esperienza e visibilità online, e naturalmente mi sono chiesta come poter sfruttare questo potere responsabilmente, bene. Ed è per questo che nel mio piccolo, insieme a un prezioso team di coetanei, ho da poco lanciato uno spazio virtuale che si irradia su varie piattaforme, proprio pensato per creare un luogo che possa accogliere i giovani, dove i giovani possano sentirsi meno soli, non giudicati, un salotto in cui i gatekeeper possano venire a raccontarci quello che sanno in una maniera accessibile. È proprio su questo che secondo me noi nativi digitali dovremmo concentrarci. Su come reinventarci il passaggio di informazioni, su come permettere lo sviluppo culturale all'interno di un contesto di sfiducia così grande come questo. Piuttosto che cercare di decidere il grado di negatività o di positività dei social e delle persone che li popolano, dovremmo cercare di capire come utilizzarli per il bene comune. E YouTube e i social mi servono proprio per questo, li vorrei utilizzare proprio per questo, per creare un salotto, una casa, una piazza all'interno del quale lo scambio di informazioni sia fluido, sia gentile, sia divertente, per preservare il sapere, per rendere omaggio a Levi e al suo giusto ottimismo. Speriamo di riuscirci. Grazie. Grazie.